fratelli bianconeri e sorelle bianconere incredibile ma vero juventus 3 real madrid 1 voi che siete stati svegli tutta la notte insieme a me per vedere questa partita della juventus iscrivetevi al canale prima di andare a letto like al video commenti naturalmente la campanella per essere raggiunti raggiunta ovunque voi siate allora usciamo subito dall'equivoco del risultato è sempre un amichevole però il vento schiude la sua torne con la vittoria di loro con il milan e la vittoria 3 1 su real madrid real madrid avanti nella condizione e nella preparazione real madrid deve anche stare a via di croz di modric del super pagato bell in gama di del devastante vinicio insomma non è non è che dobbiamo fare del ecco la juve sicuramente non è all'altezza della madre e su questo siamo d'accordo però è calcio estivo e non bisogna farsi ingannare dal risultato parlando però della partita ci sono un evento sa due facce attenzione ci sono lati positivi e lati negativi come sempre cose che abbiamo fatto vedere che ci danno una speranza e cose nettamente da migliorare allora la juve ha fatto molto bene i primi 25 minuti ha fatto bene i 15 minuti finali nel mezzo però ci sta real madrid ci sta il possesso palla della madrid ci sono giocatori devastanti come venisius che ha messo in difficoltà nel gol del 2 a 1 sicuramente in contropiede bremer ha messo in difficoltà nel secondo tempo gatti che però ha combattuto e qualche circostanza è riuscito a dargli anche un po fastidio anche se ovviamente per lo più ha avuto la meglio vinisius detto questo è superiore e gode di questa sua superiorità tecnica e di palleggio noi dobbiamo sicuramente migliorare il possesso palla perché su questo siamo indietro è vero che il centrocampo pensato titolare sempre ammesso e non concesso che può basse ancora un giocatore di calcio della juve sarà radio bomba e fagioli piuttosto che locatelli mentre adesso abbiamo visto niretti e meccani in questa torre meccani tra l'altro a me non vedete ma detto questo si può sicuramente si deve sicuramente migliorare sul sul possesso e sul palleggio dove siamo andati a cadere come l'anno scorso e come l'anno prima siamo andati a cadere sul fatto che dopo i primi 25 minuti ci siamo abbassati nettamente la madrid ha iniziato a palleggiare ha preso il possesso ha preso il sopravvento ma noi ci siamo nettamente abbassati e non ci abbiamo capito molto di più fino al quarto d'ora finale siamo stati presi un po appallate e lì dobbiamo assolutamente lavorare e migliorare altrimenti poi può capitare come abbiamo visto nelle ultime due stagioni che insomma se non è un'amichevole estiva e se la squadra avversaria più precisa non sciuppa e se non è in campo un portiere all'altezza come ha dimostrato tec nel primo tempo con quattro grandi parate e anche pinzoglio nella ripresa che ha dato sicurezza al reparto soprattutto nelle uscite quando dava il pallone dal basso se non è il portiere in forma poi dopo i gol li prendi la cosa positiva e che lascia ben sperare è che dopo quello che abbiamo visto con il milan qua nei primi 25 minuti ma pronti via perché la juventus parte alta aggressiva ruba il pallone a modic con alexandro che farà solo quello di buono perché poi per il resto sono solo i suoi errori da matita rossa da da segnare sul topino che altro però la juve ha dimostrato che questo lavoro che ha iniziato in questa torne americana sta producendo dei frutti e degli effetti e quindi la parola nuova è pressione la juve nei primi 25 minuti ha operato pressione e il primo gol e anche il secondo sono belli perché frutto appunto dello stare più alti di mettere angoscia anche una squadra come la real madrid portargli via il pallone poi con dei tocchi di prima farsi trovare dentro l'area di rigore cosicché mckenni inizia e finisce l'azione con un assist e ueassi nel suo primo gol con la maglia della juventus cosicché mckenni dopo il pallone rubato da alexandro dopo 50 secondi prende un palo e sulla ribattuta sul tappi che insegna e anche in altre due o tre circostanze quando la juve è andata via veloce e poi però magari è concluso soprattutto con chiesa centrale raso terra o con costi senza creare dei pericoli eccessivi a portiere del mare però ha dimostrato che giocando così si può intanto stare alla pari quando una squadra è più forte di te ma poi soprattutto rischiando rischiando qualcosa però si riesce a giocare nella metà campo degli altri ea produrre non soltanto gioco delle azioni ma poi alla fine gol poi appena dopo il culo in brega appena ci siamo presi invece quella quell'attimo per pensare tra mckenni e uea come passare o come non stoppare il pallone siamo presi il contropiede di vinicius è l'unico gol che abbiamo incassato durante la partita però queste sono le due fasi quindi la fase buona non soltanto la prima mezz'ora i due gol ma quello su cui si è lavorato il possesso la fase molto meno buona e cioè quella in cui siamo fatti schiacciare e li bisogna completamente migliorare dobbiamo uscire no da quella da quella idea che abbiamo avuto nelle ultimi campionati dove appena prendi un gol c'è un gol si può prendere pazienza vai avanti come prima invece qua appena si prende un gol poi la squadra si abbassa e se gli altri che sono il real madrid poi devi soffrire le pene dell'inferno alla fine c'è stato anche il terzo di blauvic è entrato in campo al settantasettesimo e attenzione perché mi è sembrato non dico in palla perché è il primo spezzone di amichevole che gioca in questa preparazione estiva però mi è sembrato molto convinto molto cattivo molto determinato è quasi a lanciare un messaggio della serie o io voglio restare qua sappiamo cosa sta succedendo a latere nel mercato ma mi sembra che la voce da parte e chiesa dall'altra siano molto determinati a restare qua chiesa meno bene che colmina ha giocato sempre la seconda punta però soprattutto nella prima metà della della partita ha svariato si è allargato molto alla sinistra e lì dialogando i compagni creava la superiorità numerica tentare che è entrato nelle azioni dei gol se c'è una cosa che deve fare federico meglio e lo abbiamo visto anche questa notte quando ci sono le azioni in contropiede il testolino mentre corre deve stare alto perché se carichi a testa bassa poi quando la alzi vai a sbattere contro il muro avversario grande infornata di giovani anche a questo giro barrenecea disastroso quando entrato avrebbe anche causato probabilmente un rigore che non è stato dato che poteva costare il pareggio ma comunque ha perso veramente dei palloni sciagurati a dimostrazione che forse quello che abbiamo visto anche l'anno scorso rispetto agli altri ragazzi della sua negliata lo pone in una situazione un po arretrata mentre hoisen il ragazzino il difensore hoisen al di là di quella che può essere la personalità e l'azione nella fase difensiva mi è piaciuto moltissimo perché ragazzi questo è forte si sa però questo ragazzino ha una pulizia ha una pulizia e una calma anche quando deve uscire col pallone che è pressato che fa assolutamente ben sperare su quello che è il nostro il nostro futuro il primo gol di wea in una partita che è stata meno vivace meno di corsa rispetto a quella fatta con il milan però è una bella cosa soprattutto per lui poi vabbè mckennie e wea gol all'americana siamo in america quindi tutti contenti anche dal punto di vista del marketing ci si marcia per i prossimi giorni con i video costi non molto brillante ha tirato una conclusione centrale poi ha avuto l'opportunità alla costi ci mettere il passato in mezzo però per un gol invece ha messo un cross che è stato arretrato una via di mezzo tra chiesa e kennel nel primo tempo per quanto riguarda milic invece milic e miretti sono secondo me i due assenti della partita miretti spesso volentieri si è nascosto l'abbiamo visto soltanto una volta in un'azione in cui ha difeso bene il pallone ma è stato veramente molto 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 soffocato da questa partita qua e quindi anche lui è un po indietro rispetto agli altri ma è quello che l'anno scorso ha avuto più difficoltà rispetto agli altri giovani milic mi sembra un po non dico incartato però un po troppo un po troppo macchinoso non lo vedo più quel giocatore che che aveva fatto bene all'inizio l'anno scorso quando quando era arrivato da noi bisogna rispolverarlo un po meglio le distanze attenzione a questa parola le distanze perché la juventus è andata in grave difficoltà perché si è trovata più senza più trovare le distanze e quindi la squadra di intralunga e quindi quel punto lì ti abbassi e poi butti col lancione solo che butti col lancione senza gente che magari sa lanciare davanti senza nessuno che può recuperare il pallone quindi mi raccomando parola d'ordine per la prossima gara le distanze nell'ultimo quarto d'ora i cambi di allegra messo 4 4 2 squadra più compatta e infatti siamo ritornati anche in partita comunque juve bene juve vero bene il risultato porta sicuramente entusiasmo adesso finisce sta torne tra l'altro c'erano 40 gradi gattone che ha provato con una conclusione da distanza alla fine con grande palato del portiere del real madrid si è lamentato in campo dei 40 gradi adesso i 40 gradi finiscono avete sudato avete lavorato ritornate in italia che c'è da giocare un paio di partitelle prima del 20 agosto quando ci sarà la prima gara di campionato udinese contro juventus voi ci siete di notte ma ci sarete anche di giorno mi raccomandi iscrivetevi al canale like al video commenti e campanella